Nell'agosto scorso l'allora commissario Chiodi emese un provvedimento che permetteva la spesa per i centri di antiviolenza di un milione e mezzo di euro per quanto riguardava la ristrutturazione di abitazioni dedicate a questo e un milione e mezzo di euro per quanto riguardava l'aveva assegnati alla consigliera delle pari opportunità della regione Abruzzo sempre per questa questione. Ebbene la Corte dei Conti ha bocciato quel provvedimento perché Chiodi invece di adempiere a ciò che l'OPCM prevedeva cioè quello della ricostituzione di un centro di antiviolenza all'Aquila affidando queste somme anche ai centri di antiviolenza dell'Aquila aveva ideato un sistema in cui la curia potesse entrare e 600 mila euro di questi venivano spesi sulla ristrutturazione di un immobile a Pescara quindi con i fondi del terremoto noi andavamo a ristrutturare degli edifici a Pescara. Ecco questo è quello che Chiodi ha combinato noi impegniamo il sindaco e la giunta a poter cercare di recuperare questi fondi ed assegnarli invece all'associazione del centro di antiviolenza dell'Aquila che stanno compensando notevolmente le manchevolezze delle amministrazioni pubbliche riguardo alla violenza che subiscono ogni giorno le donne.